Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Barbara, la protagonista del caso di oggi, nasce il 16 maggio 1963 a Bothell, un sobborgo di Seattle, nello stato di Washington. La nascita di Barbara è il risultato di una relazione segreta tra sua madre e l'uomo con cui lei tradiva il marito. La donna si vergognava tantissimo di essere rimasta incinta in quella situazione, ma ha scelto di partorire e ora non sa come gestire la maternità. Alla fine lascia la piccola Barbara davanti a un ospedale, non vuole più avere a che fare con lei. Dall'ospedale la neonata viene trasferita in un orfanatrofio locale, ma dopo un paio di mesi la mamma di Barbara, afflitta dal senso di colpa, va a riprendersela. La bambina cresce con lei e con il marito della donna, credendo che sia suo padre biologico. L'ambiente di casa però è malsano, i coniugi vivono una relazione instabile e disfunzionale, in quanto la madre di Barbara ha problemi di salute mentale ed è dipendente dall'alcol. Quando beve a dismisura poi sfoga la sua ira sul marito e sulla prole. A distanza di qualche anno Barbara scopre che l'uomo con cui vive e che chiama papà non è suo padre biologico. A seguito di questa rivelazione la coppia divorzia. Poco dopo alla bambina viene presentato il suo vero padre, che era un caro amico di famiglia, rimasto in contatto con la madre di Barbara. A questo punto i due si riavvicinano e tornano insieme, ma anche lui è un bevitore incallito, eppure un giocatore d'azzardo. La famiglia ricompattata inizia a trasferirsi spesso, quindi Barbara non si sente mai realmente a casa. Non sperimenta alcuna stabilità durante l'infanzia. Crescendo viene descritta come una ragazzina viziata e monella. Infatti, anche se i suoi genitori la trascurano emotivamente e la fanno vivere in un ambiente tossico e traballante, provano a farsi perdonare, assecondando tutti i suoi capricci. Suo padre, come vi ho già detto, gioca d'azzardo e quando vince compra a Barbara qualsiasi cosa le desideri. Un giorno torna persino a casa con un cavallo, ma Barbara non lo cavalcherà mai perché nessuno le insegna come fare. In questo periodo emerge anche che Barbara ha difficoltà di apprendimento a causa della sindrome alcolica fetale, perché sua madre durante la gravidanza non aveva mai smesso di bere e neanche aveva limitato la quantità di alcol assunte. Questa condizione ha scatenato un trauma nel cervello della figlia, che si sviluppa a un ritmo molto più lento del normale. La problematica influenza il processo decisionale di Barbara. Barbara, certo, non la giustifica per ogni azione intrapresa, ma determina comunque delle compromissioni, come vedremo più avanti nel caso. Barbara ha sì difficoltà ad andare a scuola e seguire le lezioni e a fare amicizia, ma principalmente perché è viziata e nessuno vuole passare del tempo con lei. Gli altri bambini non la escludono per i suoi problemi di apprendimento. Vorrei che questo sia chiaro. Durante l'infanzia la persona a cui Barbara si lega maggiormente è sua madre, ma più passano gli anni più il loro rapporto diventa sbilanciato, perché oltrepassa quei confini che dovrebbero esistere tra una madre e una figlia. Infatti la mamma di Barbara porta l'adolescente a bere con lei nei club e la incoraggia a comportarsi come un'adulta, anche se è ancora una ragazzina. Arriviamo alla fine degli anni Ottanta, quando Barbara ha circa vent'anni, lascia la casa di famiglia e si sposa con un uomo di nome Bill Opel. Anche la relazione con il marito non godrà di stabilità, come a ricalcare i rapporti che instaurava sua madre. Barbara e Bill bevono troppo, entrambi litigano costantemente, poi si accusano a vicenda di essere fisicamente violenti. Come se non percepissero che la loro è una relazione già critica, Barbara e Bill decidono pure di mettere al mondo dei figli. Dalla loro unione nasceranno una bimba di nome Heather e poi un bimbo di nome Derek. Quando la primogenita Heather ha soltanto tre mesi, Barbara viene segnalata al CPS perché i vicini di casa vedono e sentono sua madre urlarle contro costantemente. Il CPS è un'agenzia governativa che eroga servizi di protezione dell'infanzia, responsabile di indagare sulle denunce relative ai maltrattamenti su minori. I vicini di casa di Barbara riferiscono al CPS che l'hanno addirittura sentita schiaffeggiare la piccola Heather e l'agenzia comincia a effettuare delle visite a sorpresa. Siccome gli operatori del CPS ritrovano sempre Heather illesa e pulita, così come la casa in cui vive, si convincono che la situazione non sia davvero problematica. Di conseguenza non viene intrapresa alcuna azione per tutelarla e questo mi suscita rabbia perché spesso i maltrattamenti o gli abusi non sono visibili a colpo d'occhio. Quando nasce il secondo bambino di Barbara, Derek, tali maltrattamenti non fanno che peggiorare da parte di entrambi i genitori. Heather e Derek vengono lasciati soli per ore, a volte chiusi a chiave in una stanza come punizione. In una infelice occasione ad Heather, che ora ha tre anni, viene ordinato di andare in bagno, ma lei non ne sente il bisogno e rimane seduta sul divano, in salotto. Suo padre, per punirla della disobbedienza, le fa ingurgitare un'intera bottiglietta di tabasco, una salsa molto piccante a base di peperoncino. Heather ovviamente sta male, ha la gola in fiamme, dolore allo stomaco e vomita. Sia Heather che Derek vengono piccoli ogni volta che non rispettano gli ordini impartiti dai genitori. In un'altra circostanza assurda, a Derek viene chiesto di preparare la cena, ma lui è troppo piccolo. Non ha idea di come fare, cerca pure di obbedire, ma non è in grado di cucinare. Suo padre, quando assaggia il cibo, lo disprezza e si infuria talmente tanto da colpire Derek con un pugno in faccia, che gli rompe il naso. Queste sono le brutalità che si manifestano oltre le porte di casa Opel, ma col tempo i maltrattamenti avvengono anche in pubblico. Infatti le segnalazioni rivolte al CPS aumentano. Ad esempio si fa riferimento a Barbara che afferra Derek per i capelli e lo trascina in tutto il negozio in cui si trovano. Il bambino scalcia, urla e grida. Per favore mamma, per favore mamma, non b***iarmi. Oppure Barbara viene vista sparare a suo figlio con una pistola ad aria compressa. In alcuni verbali si registra che anche la mamma di Barbara, quindi la nonna di Heather e Derek, fa del male ai bambini. In un'altra segnalazione ancora si legge che Barbara ha cercato di avvelenare il marito Bill a seguito di una discussione. È assurdo! Quante segnalazioni avrà ricevuto il CPS? Di sicuro tante. Secondo voi avrà fatto qualcosa di concreto? Assolutamente no! Quando Heather ha sei anni e Derek quattro iniziano a ricevere una consulenza costante da un professionista che dovrebbe aiutarli ad affrontare i problemi riscontrati nell'ambiente domestico. E anche questo, santo cielo, è un controsenso! Se i bambini hanno bisogno di assistenza in quanto la loro vita familiare è disastrosa, perché nessuno interviene per portarli via da quella casa? Dopo sette anni di relazione instabile, Barbara e Bill divorziano. Passa qualche anno, Barbara adesso ha 30 anni ed entrambi i suoi figli frequentano la scuola. In questo periodo la donna conosce un altro uomo con cui mette al mondiolo la sua terza figlia, Tiffany. Anche con lui però il rapporto non è destinato a durare. Nel frattempo Bill e Barbara, che hanno divorziato, sono ancora nel bel mezzo di una battaglia legale per la custodia dei figli. A Bill viene ordinato di pagare il mantenimento della prole e gli viene concesso il diritto di visita regolare, ma Barbara non vuole che lui abbia alcun contatto con i bambini. Heather ed Eric finiscono col non vedere più il padre. Non che fosse una figura esemplare, anzi, ma l'impedimento è ripeso soltanto dalla volontà di Barbara, una madre altrettanto sconsiderata. Questi bambini, insomma, hanno bisogno di cure, di vivere in un ambiente amorevole, con dei genitori equilibrati, ma ciò, purtroppo, non accade. Negli anni successivi Barbara sopravvive grazie ai soldi di Bill per il mantenimento dei figli e si rifiuta di trovare un lavoro, respinge l'idea di doversi alzare presto la mattina e preferisce oziare tutto il giorno. Inoltre, anche se questi soldi per il mantenimento dei figli non sono molti, Barbara spesso li spende per soddisfare i suoi capricci, anche quando manca il pane a tavola. Poi fa il giro di amici e parenti per chiedere denaro e ospitalità, ma non ha alcuna intenzione di saldare i debiti. Se riceve un prestito, ancora una volta fa acquisti per se stessa. I bambini non hanno mai la merenda da portare a scuola o vestiti nuovi. Per di più la famiglia si trasferisce continuamente. Pensate un po'. Nel giro di pochi anni cambiano casa per ben 22 volte. Siccome Barbara non ha abbastanza soldi per pagare l'affitto, capita che si spostino nei motel o nelle case di sconosciuti, occupate abusivamente. Talvolta dormono addirittura in macchina. In preda allo stress, i comportamenti di Barbara nei confronti dei bambini non cambiano. Li maltratta e grida loro contro anche in pubblico, tanto che alcuni vicini la soprannominano la stronza che urla dall'inferno. I bambini ora come forma di punizione vengono chiusi fuori di casa per ore e i vicini ogni volta che li vedono all'esterno, sconsolati, li invitano a casa loro. Offrono ai piccoli da mangiare e da bere, insomma li accudiscono come dovrebbero fare i genitori. Inoltre, come immaginerete i bambini, non frequentano la scuola regolarmente, anche perché si trasferiscono molto spesso, ma quelle volte in cui vanno a lezione sono sempre sporchi e risultano denutriti. Siccome in questo caso i segnali d'allarme abbondano e sono tante le persone che si preoccupano di questi ragazzini, io davvero non capisco perché le autorità competenti non abbiano mosso un dito per portarli via e metterli in sicurezza. In ogni caso a Heather e Derek piace andare a scuola e stare a contatto con gli insegnanti che sono sempre gentili con loro. Heather in particolare è molto brava sia nello studio che negli sport, specialmente nel baseball, tanto che spesso gioca nella squadra maschile e risulta più talentuosa dei compagni. Ma Barbara trova sempre il modo di rovinare tutto. Ogni volta che Heather disputa una partita, va a vederla, ma non fa mai il tifo per lei. Anzi, se la figlia commette qualche errore, urla come uno sesto da bordo campo, la insulta davanti a tutti. Spesso Heather, umiliata, non riesce più a concentrarsi sulla palla e le viene da piangere. I consulenti locali attribuiscono al nucleo familiare di Barbara il titolo di famiglia più disfunzionale mai incontrata. E loro, che supportano da anni i giovani studenti della zona, di casi particolari ne hanno visti. In questo periodo Barbara conosce Jerry Heyman, un pensionato di 64 anni che aveva sempre lavorato per la Boeing Company, un'industria aeronautica produttrice di velivoli per uso sia civile che militare. Jerry è nato nel 1937 nel Nord Dakota, si è trasferito prima in California e poi si è stabilito con la madre nello stato di Washington, più precisamente a Everett, a circa 40 minuti da Seattle. La sua famiglia lo considera una persona amichevole, gentile e generosa. Jerry prova ad aiutare chiunque, persino gli strani. Ama gli animali, la vita all'aria aperta, pescare e cucinare. Possiede una casetta vicino a un lago dove, dopo una giornata di pesca, invita spesso amici o parenti per cena. Negli anni Jerry si è sposato più volte, ha tre figli, che ormai sono adulti, e sei nipoti. Nonostante abbia alle spalle parecchi matrimoni falliti, è ancora in contatto con le sue ex mogli e ha un ottimo rapporto con tutte le sue ex compagne. La vita di Jerry è stata tutt'altro che facile, infatti è stato colpito da diverse tragedie. Nel 1982 suo figlio Michael, che aveva soltanto 22 anni, muore in un incidente stradale. Il tragico evento devasta completamente la vita di Jerry, che non riesce ad affrontare il lutto. La sua immensa tristezza l'ho perseguita per circa dieci anni. Tuttavia col tempo Jerry prova a ritrovare un briciolo di serenità. Riprende a essere attivo nella comunità in cui vive, adora gli sport e contribuisce alla realizzazione del campo sportivo locale. In questo periodo Jerry si prende cuora di sua madre, Evelyn, che ha 89 anni e soffre di Alzheimer a uno stadio avanzato. Evelyn ha bisogno di assistenza 24 ore su 24, fa fatica a comunicare ed è costretta su una sedia a rotelle. Ma purtroppo le disgrazie non sono finite, anche perché Jerry è gravemente malato. Gli viene diagnosticato un cancro terminale alla prostata e gli viene proposto di sottoporsi alla chimioterapia. Jerry però rifiuta perché vuole stare accanto a sua mamma il più possibile, visto che, anche a lei, non resta molto tempo di vivere. Ma Jerry si riscopre troppo debole a causa del tumore e capisce che non può più prendersi cura di sua madre da solo. Ha bisogno di un assistente che gli dia una mano. Per questo motivo riappare sulla scena Barbara Opel. È il novembre del 2000, Barbara ha 37 anni e vive nello stesso quartiere di Jerry. Lo conosce di vista e viene a sapere che lui sta cercando una badante che accudisca sua madre. Siccome la stanno per sfrattare, dato che non paga l'affitto e deve trovare un altro posto in cui vivere, pensa di proporsi per l'incarico. Quindi, quando Barbara incontra Jerry in una caffetteria, gli si avvicina e gli mente, dicendo che è una badante qualificata. Gli fa una filippica raccontando che lavora tantissimo, tuttavia non ha abbastanza soldi per pagare l'affitto e mantenere i suoi tre figli, perché è una mamma single e le spese sono troppe. Vorrebbe prendersi cura della signora Evelyn in cambio di usufruire di vitto e alloggio. Jerry a primo impatto è un po' titubante, ma si lascia convincere che Barbara sia una grande lavoratrice. Ignora che, in verità, è una scansafatiche che trascina i figli con sé, dove capita di continuo, perché non accetta di trovarsi un impiego. Inoltre, Jerry, come vi ho detto, è un uomo gentile e disponibile. Infatti, appena Barbara nomina i figli, si ammorbidisce e accetta l'accordo. La sola idea che quei piccoletti possano rimanere senza casa lo farà brevedire. A distanza di pochissimi giorni, Barbara e i suoi tre figli si trasferiscono a casa di Jerry. E a dirla tutta, all'inizio, la convevenza funziona bene. Jerry trasforma il seminterrato in un piccolo appartamento per Barbara e i ragazzini, così che possano avere la loro privacy. La signora Evelyn vive al piano terra, più comodo dato che va spostata in sedia a rotelle, mentre Jerry occupa il primo piano. Barbara si assume la responsabilità di prendersi cura di Evelyn e, come accennato all'inizio, fa un buon lavoro, tanto che dà pure una mano in casa, cucina, pulisce, fa la spesa, e il bucato, ovviamente va a prendere le medicine per l'assistita. Jerry, dal canto suo, ripaga il lavoro di Barbara, ospitandola e mostrandole un'immensa gratitudine, anche concreta. Infatti, il mese dopo è Natale e lui compra regali per tutti, in aggiunta dà a Barbara 300 dollari per permetterle di comprare altri doni ai figli. Jerry ha anche acquistato un albero di Natale, lo ha riempito di decorazioni e sistemato nel piccolo appartamento ricavato per Barbara. Nel semi-interrato. Perché vuole che i bambini vivano un Natale speciale. E in effetti, nel periodo tra Natale e Capodanno, Jerry e i figli di Barbara legano moltissimo, perché loro non hanno un papà presente e individuano in Jerry un ruolo simile. Jerry compra i loro vestiti nuovi, gli aiuta a fare i compiti, li porta fuori a mangiare un gelato, è amorevole con i bambini, perché sente di far parte del loro nucleo familiare. I ragazzini legano molto anche con Evelyn, tanto che iniziano a chiamarla nonna. Ma purtroppo questa situazione non dura a lungo, a causa di Barbara. La scaltra donna, siccome è addetta a comprare la spesa e le medicine per Evelyn, ha accesso al libretto degli assegni di Jerry e inizia a usarlo per farsi dei regali personali. Ma non è finita qui. Barbara si è già stancata di fare la badante e dopo un paio di mesi inizia a trascurare Evelyn. Ovviamente quando Jerry è in casa si finge attiva e amorevole, ma non appena lui se ne va si comporta come se Evelyn non esistesse. Evelyn, costretta su una sedia a rotelle, non riesce a muoversi e nemmeno a comunicare. Dunque non può andare al bagno da sola, né prepararsi da mangiare da sola, né vestirsi da sola. Ha bisogno di aiuto per qualsiasi cosa, ma Barbara la ignora. La lascia lì su quella sedia a rotelle, non le prepara da mangiare, non le dà l'acqua, non l'accompagna in bagno e non le fornisce adeguate cure igieniche. La povera Evelyn, purtroppo, non riuscendo a comunicare, non può raccontare al figlio della spietata indifferenza di Barbara. Intanto le libertà che si prende Barbara in casa aumentano follemente. inizia a occupare l'intero spazio abitativo, se ne frega della privacy e addirittura organizza delle feste nell'appartamento di Jerry. Come vi ho detto a proposito dell'infanzia di Barbara, lei non era in grado di farsi degli amici e le cose non sono cambiate ora, che è una donna adulta. Dunque, chi sono gli invitati a queste feste? Tenetevi forte, perché gli invitati hanno circa 13 anni e sono gli amici di Heather. Ma Barbara si infila nel gruppo come se fosse una loro coetanea. Tratta la figlia come se fossero migliori amiche, domina completamente la sua vita. Quando Heather va al centro commerciale con gli amici, o al cinema, o alla pista di pattinaggio, c'è sempre anche Barbara. E no, non sta semplicemente accompagnando la figlia come ogni genitore. Lei vuole far parte del gruppo perché, come dice in giro, non è una mamma normale, noiosa, ma è una mamma cool. Addirittura, Barbara chiama gli amici di Heather per chiacchierare e spettigolare un po'. Quale genitore fa una cosa del genere? Voi a quell'età, come avreste reagito se vi fosse trovati in questa situazione? Io sarei sprofondata nel disagio, sentendomi mortificata e sono certa che Heather detestava sua madre quando si comportava così. Ma Barbara è una manipolatrice e una prepotente. Se Heather le chiede di allontanarsi dal suo gruppo, inizia a urlare come un'aquila, le dice che non è una brava figlia e le impedisce di vedere gli amici in sua assenza. Quindi Heather deve sopportare l'invadenza di sua madre. Tornando alle feste organizzate a casa di Jerry, quando questa mandra di ragazzini tra i 13 e i 15 anni arriva, Barbara aziona l'idromassaggio del bagno principale e invita tutti a immergersi di dentro. Offre loro alcolici, permette loro di fumare e non intendo sigarette. Addirittura Barbara cerca di far accoppiare i ragazzetti e le ragazzine per poi convincerli a chiudersi nella camera da letto di Heather e a turni avere rapporti. Come potrete immaginare, incoraggia anche sua figlia ad averne. Queste feste vanno avanti per un po' di tempo. Non so se qualche ragazzino abbia secondato Barbara, ma spero vivamente di no. In ogni caso, quando i genitori dei giovani invitati scoprono la situazione, non tengono la bocca chiusa. Presto tutti i compagni di classe di Heather hanno il divieto assoluto di tornare a casa di Barbara o di partecipare a qualsiasi sua iniziativa. Anche Jerry dice a Barbara che, se non sistema il gran casino che ha creato con gli altri genitori e non la smette di pensare alle feste, dovrà andarsene da casa sua. In realtà, la donna rinuncia ai parti perché i ragazzini non potrebbero più parteciparvi, dato il divieto. Dopodiché, la donna scopre che Jerry ha recentemente guadagnato 40.000 dollari dalla vendita di una delle sue case. Barbara vuole sottrarre del denaro dal suo libretto degli assegni e pensa che Jerry non se ne accorgerà. Quindi firma un assegno da 1.800 dollari e poi va a incassarlo. Jerry, che non è mica scemo, se ne accorge, si infuria e caccia Barbara da casa sua. Lei però scoppia a piangere, gli dice che le dispiace tanto, che non voleva fargli un torto e poi nomina i bambini. Cosa faranno adesso? Dovranno vivere per strada? Jerry si lascia intenerire e perdona Barbara che però non si dimostra affatto gratta della grande occasione che ha avuto. Quella di rimanere in casa dell'uomo con i suoi tre figli dopo che l'aveva derubato. Ma no, Barbara è infuriata perché lui l'aveva messa alla porta e vuole vendicarsi. Vendicarsi. Lei. Dopo che lui le ha ricavato un posto in casa sua per ospitarla insieme ai figli? Dopo che lei tempo due mesi aveva già smesso di accudirgli la madre malata? Dopo che addirittura aveva spinto dei ragazzini a consumare alcol e sostanze nella sua abitazione? Dopo che gli aveva pure rubato dei soldi? Cioè, è il minimo che Jerry si è alterato. Il minimo. E... Oh Barbara, sono certa che c'è un posto all'inferno che sta aspettando proprio te. C'ha il tuo nome e cognome sopra. Marchiato. Questa donna senza scrupoli ora vuole mettere le mani su tutti i 40.000 dollari di Jerry ma stavolta non intende rubarli. No. Il furto comporta troppi rischi. La sua soluzione è uccidere Jerry. Questo escalation di crudeltà mi sconcerta perché il pieno di commettere un omicidio spunta fuori letteralmente di colpo. Barbara vive a casa di Jerry da appena tre mesi. Ma credetemi, la situazione peggiora ancora di più perché Barbara non vuole mica fare il lavoro sporco da sola? Assolutamente no. Anzi, vuole che qualcun altro uccida Jerry al posto suo. E secondo voi che fa? Prova ad esempio ad assoldare un sicario? No. No, 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 no. Peggio. Vuole assegnare l'orribile incarico a un gruppo di adolescenti. avete capito bene un gruppo di adolescenti e non dei ragazzini qualsiasi ma gli amici di sua figlia Heather quelli che frequenta anche lei convinta che siano pure amici suoi. Barbara quindi riprende a uscire con Heather e i suoi amici senza timore si avvicina a ognuno di loro e gli offre dei soldi in cambio dell'uccisione di Jerry. Nessuna dei ragazzi accetta ma lei non si dà per vinta. Avvicina un altro ragazzo di nome Danny e gli offre 10.000 dollari per portare a termine il delitto ma pure lui rifiuta. Poi tocca a Mariam la migliore amica di Heather che ha appena 13 anni. Mariam in realtà proviene da una famiglia problematica sua madre consuma sostanze costantemente quindi della ragazza si prende cura la nonna ma la vita non è facile per lei. Barbara telefona a Mariam e prova a farle il lavaggio del cervello dicendole che Jerry sta abusando di sua figlia quindi devono sbarazzarsi di lui per proteggere Heather. Mariam all'inizio è convinta che Barbara stia scherzando tuttavia la donna abile nella manipolazione col tempo riesce a convincere Mariam che Jerry molesti Heather. A quel punto Mariam accetta di ucciderlo. In un'occasione Mariam va a trovare Barbara e Heather. Jerry è a casa e lei prova davvero ad ammazzarlo. Mentre Jerry siede al tavolo da pranzo Mariam va alle sue spalle impugnando una mazza da baseball per colpirla la testa più forte che può. Mariam per fortuna prende male la mira e si scaglia contro la sedia tra l'altro con poca forza. Jerry però chiaramente si infuria la guarda ed esclama che diavolo ci fa questa ragazzina a casa mia mentre impugna una mazza da baseball e prova a darmela in testa? caccia Mariam da casa e le dice che non deve mettere mai più piede lì dentro neanche per sbaglio. Dopo questo primo tentativo fallito Barbara prova a uccidere Jerry lei stessa mettendogli del diserbante cioè una sostanza che si usa contro le piante infestanti nel cibo per avvelenarlo. Fortunatamente Jerry sopravvive certo sta molto male da di stomaco ma è salvo. Barbara capisce quindi che deve rivolgersi a qualcun altro qualcuno comunque più forte di Mariam e contatta un ex fidanzato di Heather di qualche anno più grande di lei. Gli offre 5000 dollari per uccidere Jerry ma anche lui si rifiuta prendendola per pazza chiaramente. Intanto Jerry inizia a percepire che Barbara vuole fargli del male anche se spera di sbagliarsi parlando con dei cugini dice esattamente queste parole credo che Barbara stia cercando di uccidermi vuole i miei soldi arriviamo all'aprile del 2001 quando Barbara prova ad affidare il lavoro sporco a degli adulti ma poi cambia idea perché gli adolescenti sono manipolabili più facilmente anche se gli amici di Heather sono troppo piccoli. Barbara in pratica vuole servirsi di un adolescente più grande ma ancora abbastanza giovane da poter manipolare. Ogni venerdì Heather i suoi amici e ahimè anche Barbara vanno alla pista di pattinaggio dove la donna incontra un ragazzo di 17 anni Geoffrey Groth appena lo vede pensa che lui sia perfetto per portare a termine il suo piano micidiario a questo punto deve solo convincerlo ma come può farlo? Beh decide di usare Heather come esca cioè spinge sua figlia a flirtare con Geoffrey e invitarlo a casa loro Heather segue le istruzioni di sua mamma si avvicina Jeff ci prova con lui e lo invita a casa Jeff non si fa alcun problema accetta nonostante sappia che Heather ha malapena 13 anni una volta a casa di Jerry Barbara esorta Heather a portare Geoff in camera sua per avere un rapporto con lui cosa che purtroppo Heather fa questa situazione va avanti per qualche giorno Heather continua a invitare Geoff a casa i due si intrattengono mentre Barbara attende fuori dalla porta che concludano l'atto sono disgustata anche considerando le dichiarazioni che farà Heather agli investigatori ovvero è stato il primo ragazzo con cui sono stata e non ha avuto neanche il bisogno di indossare il preservativo perché non ha ancora avuto il ciclo quindi non posso rimanere in cicla che madre vergognosa dunque appena Heather e Jeff escono dalla camera Barbara è lì pronta a riempire il ragazzo di fesserie dici anche a Jeff che Jerry sta buendo di Heather e che lui il suo ragazzo la deve procedere dal molestatore non passa molto tempo prima che Barbara inviti Jeff a vivere con loro nel seminterrato tutti questi avvenimenti si verificano nel giro di una sola settimana di conoscenza Jeff accetta di trasferirsi da loro e a questo punto Barbara gli rivela il suo piano per portare a termine l'omicidio se avesse accettato di collaborare gli avrebbe regalato un'automobile nuova Jeff ahimè dice a Barbara che l'aiuterà tuttavia Barbara pensa che Jeff abbia bisogno di un ulteriore supporto quindi gli chiede di coinvolgere qualcun altro così Jeff recluta alcuni amici disposti a dargli una mano il primo è Kyle Boston di 14 anni mentre il secondo è il cugino di Kyle Michael che ha 13 anni Barbara accetta di dare a Kyle 200 dollari e a Michael 100 dollari per compiere l'omicidio ma non è soddisfatta vuole assoldare anche la figlia Heather e la sua migliore amica Mariam per uccidere Jerry onestamente sono molto rattristata il piano ha preso forma perché Barbara sostiene che Jerry abusi di sua figlia ma Heather sa che non è vero quindi perché non la smentisce? di sicuro una ragazzina confusa vittima di sua madre da cui ha sempre subito maltrattamenti abusi e manipolazioni però addirittura emerge dal suo diario segreto che era molto emozionata all'idea di compiere l'omicidio di Jerry perché sua madre se avesse collaborato le avrebbe comprato una bicicletta nuova inoltre Jerry per Heather era diventato una figura importante e a volte lo chiamava papà lui era sempre stato gentile con lei le aiutava a fare i compiti le comprava vestiti nuovi per andare a scuola le stava vicino emotivamente l'amica di Heather Mariam è altrettanto emozionata perché Barbara le ha promesso dei pattini nuovi a condizione che collabori nell'attuare il delitto arriviamo a venerdì 13 aprile 2001 nell'abitazione di Jerry ci sono Barbara Opel i suoi tre figli Heather Derek e Tiffany e gli altri ragazzi che hanno deciso di partecipare all'omicidio ovvero Jeff Kyle Michael e Mariam inoltre in casa c'è sempre la mamma di Jerry che ora si trova in cucina sulla sedia rotelle Jerry sta per rientrare quindi Barbara prepara tutti i ragazzini all'azione da Jeff Kyle e Michael delle mazze da baseball in particolare quella che consegna a Jeff è di metallo infine arma Heather e Mariam con dei coltelli da cucina riepiloga il piano e i ruoli assegnati a ciascun adolescente ordina Jeff Kyle e Michael di nascondersi al piano terra mentre lei con i tre figli e Mariam staranno in agguato nel seminterrato appena Jerry tornerà a casa varcando la porta d'ingresso ed entrando in cucina dovranno compiere l'aggressione proprio nella stanza dove c'è anche Evelyn la mamma della loro vittima circa un'ora dopo Jerry che vi ricordo è gravemente malato di cancro rincasa e viene immediatamente colpito in testa da Jeff con la mazza di metallo Jerry cade a terra è sotto shock terrorizzato prova ad alzarsi dal pavimento forse temendo che dei ladri siano entrati in casa ma appena Cella sulle vassi Kyle e Michael si scagliano contro di lui colpendolo anche loro con le mazze da baseball lo bastonano sulla schiena impedendogli di alzarsi mentre Michael continua a ferirlo con la mazza da baseball Kyle ora sferra dei pugni in faccia a Jerry Jeff invece è fermo la cosa che più mi spezza il cuore è che Evelyn l'indifesa madre di Jerry sta vedendo questa scena straziante con i suoi occhi si ha l'alzheimer in fase avanzata ma magari comprende cosa accade sta assistendo al violento pestaggio di suo figlio che rischia di morire ai suoi piedi a un certo punto durante la brutale aggressione Kyle e Michael si spaventano e scappano via si danno alla fuga rubano le chiavi dell'auto di Jerry ci salgono a bordo e mettono in moto quando Barbara dal semi interrato si accorge che i suoi scagnozzi accuratamente scelti sono fuggiti ordina a Heather e alla sua amica Mariam di salire al piano di sopra loro eseguono gli ordini agitando i coltelli in aria in modo alquanto goffo a dirla tutta provano a colpire Jerry ma non sanno esattamente come fare allora Jeff riprende la mazza da baseball e si scaglia contro il povero uomo Jerry a questo punto non ha più neanche la forza di alzarsi mentre Barbara sempre nascosta come un topo nel semi interrato grida parole di incoraggiamento avete capito bene fa il tifo Mariam sentendo queste grida si spaventa e corre nel semi interrato prova a scappare passando da una finestra ma Barbara la blocca la ferra e le dice cosa pensi di fare che razza di migliore amica sei stai davvero tentando di scappare mentre Heather sta uccidendo Jerry Mariam capisce di non avere scelta deve tornare al piano di sopra e continuare a fare del male a Jerry quando torna su Mariam si rende conto che Heather ha coltellato Jerry al fianco più e più volte mentre Jeff lo ha colpito con la mazza da baseball così impietosamente che c'è sangue sparso ovunque zampilla dalle numerose ferite inferte alla vittima e schizza anche addosso a Evelyn rimasta lì vicino nel frattempo Barbara non molla la sua postazione nel semi interrato perché non vuole proprio farsi coinvolgere in nessun modo si limita a gridare facendo il tifo pugnalalo pugnalalo Jerry sta per perdere la vita ma prova a rotolare sul pavimento per sfuggire i colpi che ancora gli infliggono a questo punto Jeff afferra un coltello da cucina e gli taglia la gola ma non abbastanza profondamente da ucciderlo quindi Jerry sta perdendo tantissimo sangue non riesce neanche più a muoversi è in fin di vita ma purtroppo è ancora vigile non è mai svenuto non ha perso i sensi dunque avverti il dolore atroce causato da ogni singola bastonata o coltellata infine Mariam recupera la mazza da baseball la solleva sulla testa di Jerry e lo colpisce per tre volte schiacciandogli completamente il cranio dopo questi ultimi bruttali colpi Jerry viene a mancare compiuto l'orribile omicidio Barbara sale le scale e ordina di passare alla seconda parte del piano pulire la scena del crimine e ascoltate bene decide che saranno i suoi figli più piccoli Derek di undici anni e Tiffany di sette a occuparsi di questo aspetto della faccenda chiedo riuscite a immaginarvi due bambini che lavano il sangue e la materia cerebrale sparsi per la cucina io rabbrividisco solo all'idea ma non è finita qui gli incaricati devono pulire anche Evelyn da ogni traccia una volta terminate le varie incombenze Barbara ordina a Jeff di prendere un tappeto dal soggiorno poi tutti insieme li avvolgono dentro il corpo senza vita di Jerry lo trascinano nell'automobile di Barbara parcheggiata fuori casa lo portano in una zona boscosa e lo scaricano abbandonano lì vicino le armi del delitto in più Barbara cosparge dell'acido sul corpo di Jerry probabilmente per tentare di sfigurarlo ma poi senza alcuna logica buttano ed intorni la sua carta d'identità è il momento di premiarsi per le orrende azioni commesse Barbara porta i suoi figli e gli altri ragazzi complici del delitto da Dennis una catena di fast food che fa anche pancake per la colazione ebbene sì pagherà il conto utilizzando il libretto degli assegni di Jerry chiaramente a loro si sono uniti anche Kyle e Michael che erano scappati durante l'aggressione se ricordate ebbene Kyle e Michael al posto di andare dalla polizia a denunciare l'accaduto avevano temporeggiato in una sala da bullying dopo la colazione e la consegna da parte di Barbara del denaro promesso a tutti ognuno se ne va per la sua strada come se nulla fosse successo il giorno dopo Barbara raggiunge casa di Jerry con un camioncino per i traslochi che ha noleggiato e inizia a sottrarre tutto ciò che le piace impacchetta gli oggetti di valore e i mobili risale sul camioncino e se ne va lasciando Evelyn ancora in cucina seduta sulla sedia a rotelle in poche ore Barbara individua un appartamento che gradisce se la giudica pagando il canone per sei mesi sempre usando i soldi di Jerry poi si dà allo shopping sfrenato arriva a spendere 8000 dollari in 24 ore passano 5 giorni e Barbara è davvero convinta di averla fatta franca visto che nessuno è andato a cercarla ma sta per accadere qualcosa che lei proprio non immagina uno dei figli di Jerry Greg aveva programmato di fare visita a suo padre proprio quella settimana Greg e sua moglie stanno aspettando all'aeroporto che Jerry vada a prenderli come avevano concordato ma l'uomo non si vede da nessuna parte Greg prova a chiamarlo ma suo padre non risponde al telefono quindi inizia a preoccuparsi prende un taxi e raggiunge la casa del padre bussa alla porta ma non riceve alcuna risposta impensierito Greg va dai vicini con cui Jerry aveva sempre avuto un ottimo rapporto loro gli dicono che non lo vedono da una settimana tuttavia una donna che Jerry stava ospitando Barbara circa 5 giorni prima era apparsa a bordogli un camioncino per i traslochi Greg non sa chi sia questa Barbara ma è seriamente angosciato niente di questa storia ha senso per lui quindi torna alla casa di suo padre si avvicina a una finestra rimasta socchiusa e riesce a entrare in casa si guarda intorno camminando per le stanze e si rende conto che la casa sembra deserta fino a quando non arriva in cucina e vede Evelyn sua nonna abbandonata a se stessa sulla sedia rotelle la signora è rimasta lì senza mai potersi muovere per 5 giorni è chiaramente fortemente disidratata alle labbra screpolate che sanguinano sta morendo di fame e si è sporcata perché nessuno l'ha accompagnata in bagno a fare i suoi bisogni sulla pelle presenta delle gravi eruzioni cutanee proprio perché non ha potuto pulirsi la poveretta è talmente affamata che quando Greg la trova sta mangiando del giornale perché è l'unica cosa che riesce a raggiungere allungandosi dalla sedia rotelle Greg sconvolto chiama immediatamente il 911 e intanto accudisce sua nonna quando gli investigatori arrivano provano a ricostruire i fatti per capire cosa si è successo lì dentro e dove si è finito Jerry la prima cosa che gli investigatori notano sono le corpose tracce di sangue appartenenti a Jerry rimaste in cucina Barbara aveva affidato il compito di pulire la scena del crimine a dei bambini che ovviamente non erano riusciti a eliminare tutte le macchie il sangue si rinviene anche sui vestiti di Evelyn e sulla sua sedia rotelle poi gli agenti intuiscono che Jerry è stato derubato di tutti i suoi beni personali trovano anche i suoi documenti finanziari sparsi sul pavimento la polizia capisce subito di non avere a che fare con una sparizione ma con un delitto immagina già che Jerry sia stato ucciso ma chi sono i sospettati del suo omicidio? il nome di Barbara Opel salta fuori presto la polizia dopo aver parlato con i vicini di casa si mobilita per rintracciare il camioncino che Barbara aveva noleggiato e che condurrà lei la polizia scopre che il camioncino in questione è rimasto coinvolto in un incidente stradale insieme a Barbara ci sono anche Jeffrey Groth e i tre figli della donna Heather complice del delitto insieme al fidanzato e Derek e Tiffany incaricati di pulire la scena del crimine la polizia si reca sul luogo dell'incidente arresta immediatamente sia Barbara che Jeff e porta in centrale anche Heather Derek e Tiffany i detective interrogano Barbara la quale cerca di mostrarsi innocente prova a rigirare la frittata dicendo che se n'era andata perché Jerry aveva dato di matto poi spiega che siccome Jerry aveva un cancro in stadio terminale non sopportava più di vivere e si era allontanato e come no ci crediamo tutti tra l'altro lasciando i suoi averi a lei che conosceva da qualche mese ha tutto molto senso certo la polizia non le crede ha trovato il sangue di Jerry ovunque non solo in cucina perché tutti quelli che hanno partecipato al delitto si sono macchiati e hanno sparso il sangue in giro per casa Barbara fa scena muta quindi la polizia decide di fare qualche domanda ai bambini interrogando gentilmente Derek e Tiffany in due stanze separate la verità viene presto a galla loro raccontano di come avevano conosciuto Jerry e spiegano che Barbara gli aveva detto che era una persona cattiva insomma una persona che andava fermata riferiscono che qualche giorno prima la sorella maggiore Heather e l'amica insieme ad altri ragazzi un po' più grandi avevano ucciso Jerry chiando la morte aggiungono che loro due erano stati bravi perché avevano eseguito l'ordine impartito dalla mamma di pulire la casa ragazzi sono tanto ripilata ma davvero davvero tanto ripilata è terribile pensare a dei bambini che dicono una cosa simile a cui è stato insegnato che agire per nascondere il male è un merito mentre Heather e Jeff sono già in custodia alla stazione di polizia in poco tempo vengono rintracciati anche gli altri ragazzi coinvolti nell'omicidio ovvero Mariam Kyle e Michael Derek e Tiffany rivelano anche la posizione del corpo di Jerry in questo modo la polizia lo trova tutto ciò che hanno affermato i due bambini corrisponde al vero quindi Barbara e i suoi complici per quanto è giovani vengono tutti accusati di omicidio di primo grado a un anno di distanza dei fatti il caso finisce in tribunale e data la gravità del crimine commesso lo stato decide che 4 su 5 complici verranno processati come degli adulti sotto consiglio del loro consulente legale la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze si dichiara colpevole per tentare di ottenere una condanna più lieve Michael è l'unico che viene processato come minorenne e mandato in un carcere minorile a scontare una pena di 8 anni cioè fino ai 21 anni Kyle viene processato come un adulto si dichiara colpevole di omicidio di secondo grado e viene condannato a 18 anni di prigione Jeffrey Groth il più grande tra i ragazzi viene ritenuto il principale responsabile ma è l'unico a dichiararsi non colpevole data la quantità di prove a suo carico viene dichiarato colpevole e condannato a 50 anni di disenzione Mariam si dichiara colpevole e riceve una condanna a 22 anni di carcere la stessa pena che spetta anche a Heather la figlia maggiore di Barbara ora parliamo di lei la mostruosa donna che si è dichiarata non colpevole al processo inizia a scagliare accuse contro i ragazzi e le ragazze che hanno commesso il delitto specialmente verso sua figlia Barbara ha il coraggio di sostenere che è strana all'omicidio di Jerry al limite aveva ordinato i suoi piccoli complici di picchiarlo ma non di ucciderlo non ne aveva alcuna intenzione anzi era sua figlia Heather che ce l'aveva a morte con lui infatti la mente che ha architettato l'omicidio era la sua poi aggiunge che Jerry stava a b***o di Heather quindi non biasima la figlia per aver ucciso l'uomo che la molestava dopo tutto ciò che aveva fatto a quell'uomo che era stato così generoso con lei dopo che lo aveva fatto persino ammazzare selvaggiamente Barbara cerca ancora di distruggere la reputazione di Jerry tuttavia nonostante i patetici tentativi di Barbara di passarla liscia in tribunale non riesce a farla franca anche perché Jeff Mariam e Heather testimoniano contro di lei Barbara Opel viene giudicata colpevole di omicidio di primo grado era stata addirittura presa in considerazione la pena capitale il che l'avrebbe resa la prima donna a essere condannata a morte nello stato di Washington tuttavia la giuria alla fine decide di non condannarla a morte ma di infliggerle come pena l'ergastolo senza condizionale al termine del processo Derek e Tiffany cioè i figli più piccoli di Barbara vengono dati in affidamento e alla madre biologica viene ordinato di non avere mai più contatti con loro grazie a Dio era ora buongiornino Tiffany è stata in grado di riprendersi dal trauma che aveva subito ma Derek ahimè dopo appena due anni in affidamento viene accusato di reati contro bambini in età pericolare Michael viene rilasciato dal carcere minorile una volta compiuti 21 anni anche Kyle è già stato rilasciato così come Mariam nel 2021 Heather è tornata libera dopo aver scontato 20 anni di prigione mentre Jeffrey Groth che era stato condannato a 50 anni ha vinto un appello di recente e dovrebbe essere rilasciato a breve a meno che non l'abbiano già rilasciato non sono riuscita a trovare fonti su questo finora ha scontato 22 anni di carcere Barbara Opel invece è ancora dietro le sbarre e sono certa lo ripeto che c'è già un posto all'inferno pronto per lei con il suo nome e cognome marchiato sopra detto questo ragazzi ho finito di parlare in questo video ora il discorso potrebbe essere ma è giusto che dei ragazzini che hanno commesso un atto così atroce siano già liberi non lo so io penso solo ad una cosa per quanto fossero giovani sapevano che l'omicidio era sbagliato io credo che a 13 anni hai la consapevolezza hai la capacità di capire che uccidere una persona è sbagliato io però sono per la rieducazione non per far marcire in galera chiunque commetti un delitto o un reato quindi io spero vivamente che questi ragazzi si siano ripresi spero che oggi stiano meglio e spero che abbiano imparato davvero qualcosa di importante dopo questa situazione e dopo le pene che hanno subito perché non è affatto una cosa leggera stare in galera per 20 anni dai 13 anni in su questa è la mia opinione fatemi sapere qual è la vostra opinione conoscevate già questo caso se lo conoscevate fatemi sapere qua sotto e come al solito ci becchiamo nei commenti voi scrivetemi quello che volete scrivete tutto quello che pensate di questo caso io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.